Sabato per la Cavese ci sarà la sfida con la Ternana, gara che chiuderà il girone di andata di ambedue le compagini nel campionato di Serie C-Girone C. Si giocherà lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, ma ci sarà qualche defezione importante per la formazione di Mister Campilungo. Contro la squadra di Marilungo Ferrante vantaggiato, i biancoblu saranno privi del difensore centrale Gabriele Rocchi, squalificato per cumulo di ammunizioni. Dopo 15 partite consecutive di campionato con la maglia della Cavese, uno stop forzato per l'ex difensore della Gianna Erminio. E c'è già chi pensa a un ritorno della coppia centrale Marzoratti-Matino, che aveva iniziato la stagione. Comunque sia, il reparto centrale difensivo della Cavese è stato quello che ha subito più variazioni proprio dall'inizio del campionato di Serie C. Prima il duo era composto da Emanuele Matino e Lino Marzoratti, poi Matino è passato a destra ed è entrato in formazione Rocchi accanto a Marzoratti, poi contro il Catania è stata schierata una linea di tre difensori. Durante la gara con il Rende si è fatto male Marzoratti ed è stato impiegato Matino accanto a Rocchi. Nel corso del match di Lentini è stato arretrato dal centrocampo Francesco Favasuli per sostituire al centro della retroguardia l'espulso Matino e da quel momento hanno sempre giocato Favasuli e Rocchi. Sabato ci sarà un'ulteriore variazione per una partita che la Cavese dovrà interpretare con molta maggiore continuità rispetto a quanto fatto domenica scorsa a Francavilla Fontana. Da comunicato del giudice sportivo di ieri si evince inoltre che è entrato in diffida il difensore esterno metelliano Polito che ha ricevuto la quarta munizione contro i pugliesi va dunque ad aggiungersi a Russotto che già è diffidato. Ieri il portiere classe 2000 Bisogno si è sottoposto ad una ecografia di controllo per verificare l'entità del colpo subito alla coscia nel corso della gara di domenica scorsa contro la Virtus Francavilla. Il portiere era rimasto contuso nello scontro con Perez dopo sette minuti di gioco poi era rimasto in campo fino a quando non è stato sostituito tra primo e secondo tempo.